Sì, è venuto come sta sottra... Vado a prendergli un attimo la roba Poracci Vai, uno a testa Uno a testa sono i colpi che ci arrivano Oh, il sodio Vai figlia Vabbè, tozzaro Sottovaluti il tozzo, amico mio No, non è overrated, dai No, non è overrated, dai Io devo andare assolutamente ai dormitori No, non è overrated, dai Rispettami È lento lei, ma quanto corre al giorno? Eh, perché sto portando un bambino sulla schiena Quanto pesi attualmente? 63,3 su 40 Che ho 23 kg in più Io ho 30 kg, dai Sì, ma penso più che altro il peso di sta roba sia dato dal mio ricchio perché ce l'ho pieno Cioè io sono lasciato ancora la roba di quello lì, di questa M1 che ha tutti i caricatori da 30 e 50 dentro Vabbè Vabbè Quello porto in testa Ma perché venire così pieni, così pieni no? Penso che abbiano cose da buttare Molte più di quante ne abbiamo Morto Ho sto meldoso anche solo per scollegiale Allora, 206 questo Eh, no, gli occhiali di Se vuoi fare la tua quest Dobbiamo andare in fondo e tornare indietro Indietro Proviamo A parte che devo andare ancora la 200 Cos'era? La 203 No, 114 C'è quella che devi fare Eh, ma anche quella di Pravor, 203 Ah, ce l'hai presa ora? No, prima, prima Eh, allora se non ce l'avevi prima Vuol dire, non è quella questa Aspetta, ti dico, eh Mi sdrai un attimo La di Pravor l'hai fatta, quella che dovevi andare dentro Bad rap evidence Find the secure folder 0031 in a bank house at customs Ah, no, devi andare nel coso Nel... Nel rosso, sopra No, quello è delivery from the past Ok Penso di aver fatto il video Me lo andrò a vedere Perché non me lo ricordo Ci sono talmente tanti folder da dover dare Non me lo prendere Non me lo prende Eh Pornati, questi fanno sti con i potenti Siamo da questi che sparano forte Eh, sì Dov'è? Sono oltre al tubo io Ok, ci sono scav prima Ricarico un attimo Eh, vedo uno per andare a fuck Quello è un player Sono il tubo anch'io Eh, io sono qui al conto di un erogio Eh, mi sa che stanno facendo gli scav boss Non vorrei dire una cosa Allora, gas station Sì 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 Questi sono bardati Stanno facendo tante granate Sono vicini Andiamo piano Perché così non mi spreco stamina per mirare Beh, sparo con gli SKS Dobbiamo fare un prefire con le granate Eh, ma bisogna capire un po' la distanza Li vedo, li vedo, li vedo, container blu No, c'è lo scav boss e lo container blu Lo vedi lo scav boss Container blu Gas station Ok, vedo il container ma dal mio coso non vedo Sta puntando alla sinistra la gas station Ok, ho visto Stanno lutando i Gli altri, dici Però aspettiamo che vogliono lo scav boss questi Appena arrivano lì Li cacciamo tutte le peggio granate No, ha visto meno No, punta me, punta me, punta me Non è che li hanno uccisi No, lo scav boss non mi caga più Questi stanno lutando Mi sa che hanno fatto quelli dietro Eccoli Dove? Lato destro della gas station Lato destro Eh, ora la domanda è quanto destro Vado piano, avanzo? Da qua non si vede un cazzo Attento, sento foglie Si sta avvicinando qualcuno dalle frasche Ah, è lo scav boss Ah, è scappato qua Eccolo Eh, gli sparo Aspetta, se non ci vede No, mi ha visto Mi ha visto, mi ha visto Ha urlato Andiamo dietro muri Dietro muri Facciamo finta Facciamo gli ignori Mi ha colpito dal gemme questo qua Lo scav boss Dobbiamo baitare Lo scav Ancora vivo lo scav boss Comunque ho visto Fiammate al lato destro Della gas station Ma proprio gas station O tipo fuori Pelo fuori Sulla destra Proprio lì Dai camioncini Sbaglio sentito Mi ha sentito Li vedo Li vedo Li vedo Centro gas station Granato Sì Indietreggio un attimo La mia posizione Aia Cosa mi ha preso? C'è uno scav Niente ma ho fatto fuori lo scav No Ho fatto fuori lo scav Io ho fatto ora lo scav che ho fatto te Forse li ho beccati con le granate Dai tutto in un colpo Questi aspettavano soltanto che si sparavano Questi qua erano scav player C'è gli ho sparato infinito No io ti giuro Di M1 uno scav L'ho preso Troppe volte I player quelli là Uno forse l'ho seccato Sì 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 Oddio Santo Mi ha ritornato una sicurazione LOL Mi ha ritornato un 74M M'ho dato anche Sì 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 Cami schifosi però eh Prova ad entrare da scav Dici? Mh Adesso ho assicurazione qua Ti ho già aperto Eh vabbè tanto se la chiudi non ti butta le cose Rimandano lì Aspetta Dai ci provo Anche perché è un bel loot Che fine hanno fatto i player? Non lo so Perché poi mi hanno iniziato a sparare un po' di scav Quindi ho rifatto tutto il giro da dietro e sono ritornato al muro Dove c'è dovrebbe essere lo scav boss No 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 Mi sono a 36 e mezzo Non lo so se riesco Ormai forse è troppo tardi No 42 Fanculo Niente vado a fare bordello Mazzoscava anche a caso Situazione merdosa Troppo merdosa Perché? Perché io sono dove c'è l'uscita Quella beyond fuel tank Dove c'è un morto proprio lì E non capisco Ed è C'è ancora tutta la roba Quindi non saprei se è stato ucciso dallo scav boss Forse l'ho beccato io con la granata anche No perché ne hai lanciato da un'altra parte la granata No no l'ho lanciata anche in centro Ne ho lanciate due Eh ma questo è troppo dietro Ok Aspetta Oltre il nostro corso però anche qua si sparacchiano belli grossi a me basta uscirne vivo ho ucciso uno bardatissimo arrivo subitissimo a me a me a me a me Grazie a tutti. 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 Poppe, poppe. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanta roba c'hai? Ok, sono all'estrazione. Allora, una K74N, il 101, Giselle, Kieber con visiera. Grazie a tutti.